20 milioni di euro a Caltanissetta per la realizzazione di 11 progetti presentati lo scorso anno e approvati dal Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Regeneria Generale dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Capo del Dipartimento per le Opere Pubbliche e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Next Generation EU arriva così nel capologo nisseno che punta alla rigenerazione. Sono una serie di progetti che hanno una logica per la rigenerazione della nostra città. Io ne voglio ricordare uno che ritengo molto importante per la città che è quello del completamento della via Romita che consente dopo tanti anni finalmente di avere la possibilità di realizzare una strada che ci consentirà di raggiungere la parte bassa della città di Caltanissetta in modo molto più semplice che non come adesso. I tempi sono ben cadenzati dal decreto che è stato recentemente approvato. Entro il 30 settembre 2023 i lavori devono essere affidati, entro il marzo del 2024 almeno il 30% dei lavori devono essere realizzati ed entro il marzo del 2026 i lavori devono essere già completati e rendicontati. Io mi auguro che l'ufficio sia capace di anticipare queste scadenze in modo tale da avere almeno già alcune di queste opere complete ben prima dei tempi previsti. 11 progetti su 11 con il raggiungimento del tetto massimo dei 20 milioni e con le deadline, cioè le scadenze da rispettare che daranno una nuova fisionomia alla città, opere importanti tra cui lavori di aredo urbano di Largo Barile davanti al Palazzo Moncada o ancora il restauro della casa di Michele Tripisciano e la musealizzazione dell'ex gasometro Iviangeli il completamento del Michele Abbate fino alla realizzazione del percorso pedonale che con la scala mobile della gradinata Silvio Pellico giungerà a via Francesco Crispi fino a Corso Vittorio Emanuele II si avvicina così nei prossimi anni la visione di una città pensata per i cittadini e i turisti.